Iniziamo adesso la creazione dello script La Palla Pazza è uno script di base che utilizzo sempre nelle prime lezioni quando faccio dei laboratori di coding con Scratch è molto semplice, è veloce da realizzare e per questo poi è comodo perché lascia il tempo ai ragazzi e agli alunni di fare le proprie modifiche e poi è comodo perché racchiude in sé già un po' tutti i particolari dell'utilizzo della programmazione in Scratch gli eventi, la condizione, il ciclo, il per sempre ma vediamo un attimo come fare allora intanto elimino lo sprite 1 lo cancelliamo aggiungiamo un nuovo sprite cerco soccer ball eccolo qui e lo aggiungo perfetto a questo punto inizia la programmazione di solito io parto con i ragazzi parto sempre gradualmente anche portando in errore Scratch in modo tale da interrogarli poi su quello che succede e su come si può risolvere un problema ad esempio se io faccio vado in situazioni bandierina verde quindi quando si clicca su bandiera verde faccio un attimo uno zoom così vedete meglio quando si clicca su bandiera verde devo far muovere la palla se io clicco su bandiera verde la palla si muove naturalmente noi vogliamo che la palla si muova ininterrottamente da sola quindi andiamo in controllo e quale utilizzeremo? utilizzeremo il blocco per sempre prendiamo il blocco per sempre facciamo in questo modo che il fai dieci passi sia all'interno del ciclo per sempre a questo punto premo bandiera verde e la palla si muove però si incastra nel bordo ok dobbiamo risolvere il problema come lo risolviamo? andiamo in movimento in movimento troviamo verso la fine il quinto ultimo blocco che rimbalza quando tocchi il bordo prendiamo questo blocco e lo inseriamo dentro perfetto facciamo ripartire e la palla vedete che rimbalza rimbalza però sempre sulla stessa linea allora noi potremmo ovviare questo problema fermando la palla spostando la palla in un angolo e poi inizierebbe a muoversi rimbalzando e seguendo traiettorie diverse possiamo però ovviare a questo problema quindi non interagendo noi direttamente con la palla ma piuttosto inserendo una condizione quando è che deve girare la palla cambiare direzione? beh quando tocca il bordo allora se noi andiamo in sensori sappiamo che c'è un blocco che si chiama sta toccando puntatore del mouse se noi ci clicchiamo sopra vediamo che abbiamo anche il blocco l'opzione bordo prendiamo il blocco vediamo che questo blocco ha una forma esagonale allungata allora questi tipo di blocchi li possiamo usare tranquillamente con controllo se allora prendiamo il se allora e lo mettiamo qui dentro a questo punto prendo il blocco un piccolo trucco è questo noi spostiamo il blocco in modo tale che vediamo illuminarsi l'esagono all'interno del se allora quando si illumina possiamo lasciare in questo modo noi sappiamo che se sta toccando a bordo allora cosa deve fare? deve ruotare cambiare direzione ci sono vari modi un modo potrebbe essere questo prendo ruota di 15 gradi ok a questo punto facciamo partire la palla e la palla inizia a cambiare traiettoria in realtà vediamo che si cambia traiettoria va bene può anche andare bene il problema qual è? che a lungo andare farà un po' sempre le stesse traiettorie non è che più di tanto cambia perché comunque ruoterà verso destra sempre di 15 gradi allora possiamo ovviare nuovamente a questo piccolo problema vedete che facciamo sempre step by step e possiamo dirgli noi facciamo una palla pazza quindi non guardiamo fisicamente una palla cosa dovrebbe fare immaginiamo che sia tipo un biliardo una palla che una palla che continua a muoversi nel nel biliardo ininterrottamente rimbalzando sui vari sui vari bordi possiamo usare una pseudo casualità andiamo in operatori in operatori abbiamo un numero a caso tra 1 e 10 anche qui prendiamo questo blocco e dove lo posizioniamo? al posto del 15 stesso trucco di prima andiamo sopra appena si illumina lasciamo a questo punto possiamo dirgli che dovrà fare un numero a caso tra 30 gradi e 60 gradi o 90 se volete fare proprio una cosa un po' più strana a questo punto facciamo ripartire la palla e vedete che le traiettorie cambiano naturalmente sta facendo delle angolazioni a caso anche qui può succedere a volte che ci sia una ripetizione bisognerebbe inserire un controllo dell'ultimo mari angolo oppure che non venga ripetuta spesso lo stesso angolo ma lasciamo queste cose a video un po' più più articolati questo è l'esercizio base qui abbiamo l'evento bandierina il ciclo per sempre il fai passi rimbalza e poi abbiamo questa condizione se sto toccando il bordo allora ruota di numero a caso tra 30 e 60 gradi qui abbiamo un po' racchiuso diverse cose poi vedremo nei video successivi andremo ad ampliare questa cosa questo può essere un esercizio tranquillamente di partenza anche con ragazzi insomma meno esperti di coding proprio all'inizio e poi con quello che vedremo nei video successivi può essere un ampliamento delle varie funzionalità aggiungiamo un altro paio di cose ad esempio il fatto che facciamo partire sempre se noi fermiamo scratch con il pulsante rosso la palla si ferma lì se noi facciamo ripartire riparte da lì noi magari vogliamo invece far partire sempre la palla dal centro allora andiamo in movimento vedete che adesso mi dice vai a x 37 y meno 44 allora prendo questo blocco lo metto qui all'inizio quindi fuori del ciclo per sempre 0 0 se mettessi il ciclo via x e y 0 all'interno del per sempre ogni volta che ripete andrebbe al centro e farebbe 10 passi quindi non otterremo mai l'effetto della palla che andrà a rimbalzare aggiungiamo anche un'altra cosa facciamo la palla un po' più piccola potremmo farlo da qui ma io preferisco sempre lavorare tramite codice e quindi non andare mai a toccare le proprietà tramite l'interfaccia nei blocchi dell'aspetto di questo colore prendiamo a un certo punto troverete verso la metà il porta dimensione 100% lo prendiamo lo mettiamo anche all'inizio e mettiamo ad 80% vedete che metto i blocchi quelli insomma iniziali che definiscono l'aspetto iniziale poi vedremo anche con le variabili cioè tutto quello che sono le impostazioni iniziali le metto sempre all'inizio nell'ordine in cui voglio che appaiano che vengono gestite anche l'ordine è molto importante nelle sequenze di comandi ripremo la bandierina verde la palla si è rimpicciolita un pochino e vedete che adesso la fermiamo ok la facciamo ripartire è ripartita dal centro fermiamo riclicchiamo riparte dal centro ecco qui lo script base una cosa interessante è il fatto che è un linguaggio di programmazione quindi il programmino lo script di questa palla lo possiamo tranquillamente leggere quando si clicca su bandiera verde porta la dimensione a 80% vai a x0 y0 ripeti per sempre fai 10 passi e rimbalza quando tocca il bordo se sta toccando il bordo allora ruota di un numero a caso tra 30 e 60 gradi vedete che è tranquillamente leggibile e è un vero e proprio linguaggio grazie a tutti